Letizia Girolami era una psicoterapeuta e psicologa spirituale e da alcuni anni svolgeva il ruolo di agricoltore custode all'interno della comunità del cibo della Vallata Retina di cui fanno parte enti ed associazioni. L'avevamo avvicinata proprio nella sua tenuta e lei ci aveva raccontato della sua passione per l'agricoltura sana, in primo piano in particolare gli iris e l'aglione. Perché ho sempre avuto una passione per questo fiore, però mio desiderio sarebbe di coltivare e custodire la maggior parte delle varietà, il più possibile, nelle varietà della Val di Chiana. Si hanno delle piante che non fioriscono tantissimo o non c'è un grande raccolto, ma la qualità del raccolto è super.